politico. Quello che però Salvini, ma anche Di Maio e anche gli esponenti dei due contraenti di governo ripetono è, attenzione, noi siccome dureremo cinque anni, dispiegheremo il risultato e gli effetti delle nostre promesse elettorali nell'arco dell'intera legislatura. Quindi si comincia e vedrete che a fine dei cinque anni le promesse saranno mantenute. E questo è una cosa che loro proveranno a fare. Il punto è che devono partire però quest'anno come sempre. Io sono d'accordo con quello che diceva Bevilacqua, è un po' complicato per loro. Dai tagli possono recuperare 5 miliardi massimo, proprio spremendo. La pace fiscale stanno cercando di quotarla. Oggi leggevo da qualche parte che si pensa che il massimo può essere una decina di miliardi, ma quello è un condono vero però per arrivare a quella cifra. Dopodiché mi sembra strano che si possa lavorare sull'IVA per non fare aumentare l'IVA, cioè aumento selettivamente l'IVA per neutralizzare le clausole di salvaguardia che se no farebbero aumentare l'IVA. Facciamo aumentare l'IVA per non farla aumentare. Questo mi sembra anche un'altra partita difficile da portare a casa. Mi pare che come sempre l'unico spazio di elasticità che tu hai è il dialogo con l'Europa, cioè capire fino a che punto puoi spingerti con l'Europa. Ti ha fatto capire che questo dialogo è già in corso. Sì, però lui dice pure io vorrei stare sull'UNE6. Allora è molto difficile. Poi se loro saranno in grado, io credo che come tutti, anche perché non si inventa niente in questo sport della politica di bilancio, io credo che il loro obiettivo sia sempre quello di riattivare la crescita. È una scommessa. Riattivare crescita per avere poi quel maggiore gettito che ti consente di avere più capienza nelle politiche di bilancio. Dopodiché qual è la situazione generale? L'Italia è in grado di reggere il quadro? Vorrei provare a introdurre una questione. Il quadro normativo che costantemente viene modificato è una cosa che aiuta gli investimenti, l'abbiamo fatto sul Jobs Act, lo stiamo facendo sulle pensioni e persino, persino sulle politiche commerciali. Cioè quella questione delle domeniche aperte o chiuse, simbolicamente non è una grande idea per gli investitori internazionali, ma neanche per quelli nazionali. Cioè se tu non hai i quadri, il quadro normativo è una specie di infrastruttura di un sistema economico, no? Anche perché il banca degli investitori è la certezza delle regole.